Buongiornissimo, buongiornissimo caffè, bentornati e bentornate al Barbasso. Fatemi fare solo un momento del Barbasso, perché stamattina il Barbasso è un Barbasso vittorioso, il Vicenza ha vinto, ieri ero allo stadio, è stato molto divertente, ho incontrato anche un po' di persone, e boh, bello, se mi vedete allo stadio e siete a Vicenza, salutatemi. Comunque, allora, video di oggi, top e flop della Serie A, più le scorie del derby, ovvero i buoni con la Barella infortunato. Infortunato, parrebbe un infortuno relativamente serio, nel senso che salterà le tre partite con Udine, Stella Rossa e Torino, diciamo male, ma non malissimo, e dopo ci sarà lo stop per le nazionali, quindi probabilmente mi viene da pensare che il buon Barella alle nazionali non parteciperà. Fatto cento questo, diciamo che è un momento in cui possiamo cominciare veramente a testare, a assaggiare quello che sarà il resto dell'impegno del nostro centrocampo senza un titolarissimo come Barella, quindi probabilmente enorme spazio per Frattesi, probabilmente anche un po' di spazio per Zielinski. Vediamo se tra i due il mister preferirà la titolarità di Zielinski o la titolarità di Frattesi. E fidatevi, secondo me questo ci dirà molto anche della gestione in generale della Rosa. Comunque, niente paura, niente sorprese, questo è il calcio di oggi, quindi stiamoce, amici del barbasso, stiamoce. Allora, video dei top e flop della serie A, intanto grazie mille ovviamente il fatto che l'Inter abbia perso il derby, ha fatto alzare gli iscritti e aumentare le view, questo era ovvio. La cosa che mi fa piacere è comunque che riusciamo a generare qualcosa per chi ne ha bisogno, questo mi fa molto piacere, quindi questa è la cosa più bella di tutto. Fatto cento questo, top e flop della serie A. Allora, top Venezia, Venezia vince 2-0 secco contro Genoa, un annetto di infortunio di Malinowski in casa e si porta a casa da quello che mi risulta la prima vittoria del campionato. Sono tre punti che pesano. Io ero a Venezia quel giorno e si respirava un'atmosfera di festa già, perché giocare la serie A a Venezia è una festa. Sono due punti che pesano tantissimo. Su un Genoa che francamente cade per mancanza di continuità, ma probabilmente può anche chiedere qualcosa di più a questo campionato. mi certo pareggiando con noi, però ecco, risultato che sicuramente non avrei pronosticato. Secondo top, ahimè, il Milan, perché tira fuori l'ultimo vagito, secondo me, di una storia già scritta in cui però non ha soluzioni di continuità. Cioè il Milan deve per forza, per forza, per forza, doveva per forza vincere. Quindi, francamente non sono sorpresa da niente, però questi sono i fatti. Il Milan, in qualche modo, potevamo aspettarcelo, io l'avevo già detto nel video. Mi tocca metterlo nei top, perché francamente chi è che avrebbe detto ah, beh, il Milan vincerà questo derby? Pochi. Quindi cade nei top. Cade nei top, tra l'altro, a scapito del Torino, che è ancora primo in classifica, però cerco di evitare di saltare a conclusioni troppo presto, anche perché lo stesso Torino deve affrontare ancora le squadre importanti. Insomma, nelle prossime giornate, se diamo un occhio, il Torino va a giocare con la Lazio al prossimo turno, con noi, quello successivo, e quello dopo ancora va a Cagliari, quindi diciamo, poi Como, però ha due partite molto importanti, due partite che io mi auguro non vinca, perché chiaramente da interista è quello che mi devo augurare. Poi, se dobbiamo dire che il Torino fa una cavalcatissima e vince lo Scudetto, sono molto più contenta che lo vinca il Torino che qualcun altro. Comunque, al di là delle divagazioni, il terzo top è il Como. È il Como perché segnare tre gol all'Atalanta, comunque una squadra che l'anno scorso ha vinto l'Europa League, o tu eri in Serie B, fuori casa. Però ci connettiamo anche ai flop. Peggior difesa del campionato, l'Atalanta di Gasperini. Allora, io non lo so, lui ha anche parlato nel post partita, ha detto delle cose, però lui tende sempre a giustificare e a minimizzare. Quindi non mi è esattamente ben chiaro, davvero, che cosa pensi Gasperini, ma sta di fatto che la situazione è un po' quella che è. Quindi lo stile è sempre quello, però i risultati cambiano. Quindi a noi va benissimo che l'Atalanta non si registri. Certo, con gli investimenti che ha fatto Zaniolo, Retteghi, Scamacca l'anno scorso, Samarzic, Bellanova. Cioè ti aspetti, ti aspetti forse un'altra squadra, però noi siamo anche contenti così. Inter. L'Inter ha veramente flopato. C'è proprio una squadra, abbiamo già detto, una squadra bulica, poco interessante, che sembrava scarica. Brutta, brutta. Come direbbe Camilleri, letterariamente brutta. E il terzo flop che metto è Lecce, perché Lecce vinceva 2-0 con il Parma in 10 e è riuscito a farsi espellere un giocatore e a prendere altri due gol. Una squadra che non dimostra continuità neanche questa. Spero che abbia qualcosa da dire al Milan, anche se dubito in casa, venerdì alle 20.45. C'è anche da dire che il Lecce poi va a giocare con l'Udinese e poi, scusatemi, perché mi compare Milan? Aspettate. Stavo leggendo. E poi va a giocare con la Fiorentina e poi con Napoli. Quindi ha un quadrittico, come si chiama? Un quartetto, un quartetto, scusate. Un quartetto di partite assolutamente poco raccomandabile. Quindi, ecco, diciamo che sì, la situazione non è esattamente rosa, però questo è quanto. Quindi, questo è un po', amici e amiche del barbasso, il, diciamo, il video di oggi e il commento a quello che è stato la partita di Serie A, le partite di Serie A. Io, tra l'altro, ho un computer nuovo, quindi adesso magari riuscirò a fare anche delle live migliori e quant'altro, ma poi, insomma, ne parlerò, avremo modo di chiacchierare. Basta, fatemi sapere quali sono i vostri top e flop e ci aggiorniamo. Grazie mille di aver visto il video e mi raccomando, iscrivetevi al canale. Stop by.